Ciao ragazzi da Vittorio, oggi è stato un giorno molto strano, diciamo che con la Lazio non ti annoi mai, perché ogni giorno c'è qualche novità, purtroppo ma spesso negativa, mai positiva, però oggi ce ne sono state un paio veramente da farti un po' preoccupare. Prima la notizia è fatta quotidiano sull'indice di liquidità, la Lazio e altre 5 squadre di Serie A non rispetterebbero questi parametri, per cui la Lazio sarebbe bloccata nel mercato infernale. Attenzione, come ho detto nel video di oggi, che qualcuno forse non ha compreso o ha visto solo il titolo e non è andato oltre, il mercato della Lazio è bloccato se la Lazio non fa alcune cose. L'indice di liquidità blocca il mercato se la Lazio prima non vende. Se tu vendi un giocatore puoi prenderne un altro. Quindi questa è una cosa importante da ricordare, perché sappiamo che è scalante in uscita, Gioni, Vavro, eccetera, quindi se la Lazio riesce a piazzare questi giocatori, non ci sarebbero problemi per il mercato in entrata. Per cui da una parte preoccupiamoci, perché è vero che questo indice di liquidità negli ultimi anni ha penalizzato la Lazio, è un regolamento stupido e l'ho detto anche nel video di oggi, perché non serve a niente. Come ho detto nel video di oggi, Gravina non ha il coraggio di attaccare le squadre che realmente sono in difficoltà, ovvero Milan, Inter, Juve, Roma, che hanno pesanti debiti, ma ha fatto questa regola dell'indice di liquidità che permette a squadre fortemente indebitate di continuare a far mercato, squadre che invece come la Lazio hanno un indebitamento minimo sono bloccate, per cui è una legge stupida. Però ripeto, la Lazio può superare il problema. Ovvio che bisogna vendere, non si può fare un prestito, bisogna vendere, per cui la speranza è di piazzare Scalante a titolo definitivo, eccetera, eccetera. A questo proposito, giusto per rendere la giornata così, un po' più divertente, stamattina sui social è uscita una notizia di una radio di Malaga, che diceva che il Malaga aveva vinto ricorso con la Lazio. Non so se vi ricordate. Vi ricordate Johnny? La Lazio lo prese perché nel contratto del giocatore c'era una clausola che lo liberava a 2 milioni di euro se il Malaga non venisse, non fosse andato nella Liga. Malaga è rimasto in Liga 2 e quindi Johnny si è liberato a 2 milioni. Il problema è che il Malaga fece ricorso alla FIFA per questa sentenza, per questo giudizio, convinti che la clausola non scattasse, o meglio, che la clausola fosse valida solamente per le squadre spagnole, e quindi non per quelle straniere. E quindi il Malaga chiedeva alla Lazio un risarcimento importante. Bene, oggi su una radio, poi ripresa da vari siti del Malaga, è uscita la notizia che la FIFA ha dato ragione al Malaga e che la Lazio doveva pagare 10 milioni per compenso al Malaga. Oppure Johnny, questi prossimi due anni, avrebbe dovuto giocare gratuitamente per il Malaga. Per fortuna, e questo non lo sapevo, oggi è come il primo d'aprile in certe zone in Spagna e quindi questo è un pesce d'aprile. Un pesce d'aprile che però mi ha regalato un 30 minuti di panico perché quando ho visto questa notizia sui social ho detto mamma mia, cioè la Lazio è sempre piena di disavventure. Per fortuna invece è un pesce d'aprile per cui la Lazio non dovrà pagare niente, non è vero che il Malaga ha vinto ricorso e quindi Johnny è ancora un giocatore della Lazio. Detto questo, mi auguro per poco. Johnny ha delle richieste dal mercato spagnolo e quindi mi auguro che a gennaio sia uno dei giocatori che venga apprezzato insieme ad Ascalante. L'altra notizia che ho scombussolato, se volete, il pomeriggio dei tifosi laziali è un account fake, ripeto fake, di Alfredo Pedullà che dava per fatto Curawa alla Lazio. Come ho detto nel video di ieri sera la trattativa è molto complicata, molto complicata perché il giocatore è uno di quelli che non ha molto interesse a giocare, ha molto interesse a prendere i soldi. prende 4 milioni all'anno da Paris Saint-Germain, ha già detto di no a Lione Galatasaray perché non si è voluto ridurre lo stipendio. Sapete benissimo che la Lazio 4 milioni non può offrirli e quindi il giocatore è fermo a Parigi dove è virtualmente fuori rosa, ha giocato il primo agosto e poi da quel momento non ha più giocato. Il Paris Saint-Germain l'ha messo nella lista dei partenti ma già da quest'estate. La Lazio lo potrebbe prendere solo se il Paris Saint-Germain contribuisse al pagamento dello stipendio. Si dice che Sarri apprezzi il giocatore ma credo che Sarri apprezzi i vari giocatori. Ripeto, questo è un prezzo un po' alto per la Lazio. Bene, questo fake account di Pedullà ha detto che la trattativa era in corsa e che si sarebbe fatto. Sarri lo voleva, Paris Saint-Germain lo voleva liberare e quindi l'accordo si sarebbe trovato entro gennaio. Questo account è stato retweetato da vari tifosi da Lazio però perché molti non si sono accorti che era assolutamente fake. Pedullà non ha detto niente di questa trattativa perché ripeto, la trattativa è molto difficile, molto complicata. Se mi dovessi sbilanciare adesso, ripeto, 20% massimo di possibilità che venga da Lazio a meno che il giocatore non decida effettivamente di ridursi lo stipendio. Quindi vedete, è stata una giornata come dire, ricca di sorprese molto spesso negative però di sorprese che hanno reso questa giornata, questo 28 dicembre in casa Lazio abbastanza vivo, abbastanza pieno di colpi di scena. Speriamo che nei prossimi giorni arrivino dei colpi di scena positivi con magari qualche notizia reale di Calcio Mercato in entrata e magari anche in uscita. Ah, l'ultima notizia ho letto che mi sembra Calciomercato.com dica che Minico I Savic deve andare alla Juve perché tifosi da Juve lo vogliono. Bene, tifosi da Lazio noi vogliamo tutti Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo arriva alla Lazio perché lo vogliamo tutti, no? Ormai non sanno più che cosa scrivere a certi siti. Ciao, alla prossima.